Sviluppo Toscana, polemica sui criteri per le nomine, rinviata alla Commissione la proposta di modifica dei criteri per l'individuazione del nuovo Direttore Generale. La Lega aveva pronti 500 emendamenti. RSA, nuove regole sui distanziamenti, passa in consiglio la disposizione transitoria e non possono essere autorizzate nuove strutture a meno di un chilometro di distanza da quelle già esistenti. La strada del Cipressino diventa regionale, nuova classificazione per l'ormai ex provinciale sul territorio di Grosseto. Buonasera, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Monitor Consiglio. È stata rinviata tra le polemiche la proposta di legge che mirava a modificare i requisiti per la nomina del Direttore Generale di Sviluppo Toscana SPA, società partecipata di supporto alle politiche economiche regionali. Il centrodestra ha accusato la maggioranza di aver cucito la nomina in anticipo sulla figura di un esponente di Italia Viva sulla stampa si è parlato dell'ex parlamentare Edoardo Fanucci. Per arrivare a questa nomina però c'è bisogno di una modifica sui requisiti e Italia Viva avrebbe accelerato per portare questa modifica in consiglio senza prima aver terminato il lavoro in commissione. Atteggiamento che però non sarebbe piaciuto agli alleati del PD che alla fine hanno scelto di rimandare tutto in commissione. Sentiamo le interviste. Oggi abbiamo visto questa proposta di legge che era passata anche dalla commissione ma con una forzatura di Italia Viva stata portata direttamente in aula che chiede di cancellare il requisito principale che è quello di un Direttore Generale che abbia delle competenze specifiche in attività similari a sviluppo toscana. Come Lega eravamo pronti con 500 emendamenti da presentare in aula perché riteniamo che l'organo legislativo del Consiglio regionale sia un organo serio e debba avere il rispetto che tutti meritano che è quello di in un portale leggi ad personam. Quella legge e quella modifica normativa è una legge ad personam che ha visto un iter lungo, abbiamo visto e letto sui giornali già la persona individuata per quel ruolo che ci dicono non avere i requisiti di 5 anni all'interno di un'azienda similare a sviluppo toscana e quindi invece di trovare nell'unica società in house che la regione toscana avrà, ricordo dopo la scelta appunto quella di cedere le quote di fidi toscana, che cosa si fa? Invece di cercare un Direttore Generale con i requisiti, le competenze che possa dare delle garanzie alle nostre imprese, alle nostre industrie, alle nostre attività produttive toscane, si cancella quello che è il requisito principale perché loro, Italia Viva in questo caso, ha individuato una persona che questi requisiti non ce l'ha. Volevamo affrontare questa questione perché non si può sempre rinviare le cose importanti, sono 5 mesi che il Consiglio regionale è chiamato a deliberare su una legge che deve dare l'individuazione di alcuni elementi che porteranno all'individuazione di un Direttore Generale che possa avere un curriculum qualificato. Noi abbiamo sempre detto che per guidare le grandi aziende toscane serve merito, serve competenza, serve una selezione più trasparente possibile e come tale ci siamo battuti nel sostegno di una proposta che il Presidente aveva fatto e dispiace che si torni indietro rispetto a questa individuazione di un percorso di massima trasparenza che poteva anche e doveva a quel punto ripartire ex novo ma che avrebbe potuto ampliare la possibilità dei soggetti che potevano ambire a guidare una delle aziende più importanti della Toscana che deve non soltanto accompagnare le imprese, filtrare i finanziamenti comunitari, accompagnare il sistema del credo e quindi come tale ampliare la gamma dei potenziali candidati a guidare questa società per quanto riguarda il nostro partito, ritenevamo fosse una cosa giusta e corretta e come tale abbiamo lavorato in questi mesi e continueremo a fare anche nei prossimi. Si torna in Commissione perché l'esame in Commissione non era ancora terminato, il fatto che quella norma avesse avuto la necessità di approfondimenti anche con il supporto del nostro legislativo per chiarire e approfondire tutti gli aspetti è segno che la Commissione stava lavorando, sinceramente è la prima volta che una legge che è all'esame di una Commissione viene forzata, chiamiamola così, e mandata in aula senza aver chiesto poi il parere, quindi lo ritengo prima di tutto un corretto utilizzo delle Commissioni, dello sviluppo della democrazia e quindi degli strumenti della democrazia che si articolano nel Parlamento Toscano in Commissione e infine l'Aula. Quindi abbiamo ritenuto che le forzature che non vanno mai bene devono essere rispettose del lavoro che la Commissione sta facendo e soprattutto del lavoro che gli uffici nostri stanno facendo per aiutarci a scegliere la cosa migliore. La sfacciataggine con cui Italia Viva ha continuato a presentare una proposta di legge che in molti hanno definito sartorialmente creata per una specifica figura ha dell'incredibile, anche perché c'erano oltre alla variazione di legge che andava a intervenire su una figura che non sono speculazioni giornalistiche ma precise dichiarazioni di Eugenio Giani era già stata individuata, ebbene questa forzatura di legge che veniva fatta non sarebbe stata comunque sufficiente e su questo si era già espressa l'avvocatura regionale e i revisori dei conti e lì si tratta di numeri, quindi cinque anni di esperienza che invece sembrava fossero due. Quindi fondamentalmente sarebbe stato più di una forzatura, sarebbe stato un grave danno istituzionale per un organismo sviluppo toscana che invece ha bisogno di persone ferrate e soprattutto che si accinge a un lavoro molto difficile che avrà nei prossimi anni. Quindi bene che ci sia stato questo rinvio, male che si sia arrivati a doverlo rispingere in aula. Più che torna in commissione la delibera sul sviluppo toscana torna in aula l'ennesimo balletto tra Italia Viva e Partito Democratico. Ormai ai consiglieri regionali serve un calendario per capire a seconda se il giorno è pari o dispari, per capire se Italia Viva sta in maggioranza o sta all'opposizione. Oggi l'abbiamo capito, quando gli danno le poltrone stanno in maggioranza, quando non gliele danno stanno all'opposizione. In pratica hanno tentato di modificare una legge che individua le competenze che dovrebbe avere il presidente di sviluppo toscana e hanno cercato di modificarla togliendo le competenze, visto che ci devono nominare l'ennesimo non rieletto in Parlamento, stavolta l'ex onorevole Fanucci di Italia Viva, deve essere nominato, perché qualcosa dovrà pur fare nella vita, presidente di sviluppo toscana e non avendo le competenze di poterlo fare si cambia la legge togliendo le competenze. Il giorno che capiranno che non è cambiando le leggi per togliere le competenze a chi deve essere nominato, ma scegliendo persone che abbiano le competenze previste dalla legge che si fa un servizio alla Toscana, immagino sia un giorno di grande successo, ma è una lingua questa sconosciuta in Italia Viva, quindi non abbiamo speranza di poterglielo spiegare. Cambiamo argomento, il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge sulle distanze minime tra le strutture residenziali soggette ad autorizzazione. Si tratta di una norma transitoria che impedisce di realizzare e autorizzare RSA che siano localizzate a una distanza inferiore a un chilometro da analoghe strutture già esistenti. Hanno votato a favore della norma PD e Italia Viva, contrari invece i consiglieri di Fratelli d'Italia, astenuti Lega e Movimento 5 Stelle. Sentiamo le interviste a partire da quella del Presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni sul perché di questa legge. Nasce da una razza precisa e c'è quella di riacquisire una governance pubblica della programmazione degli interventi per la non autosufficienza. Tant'è che il contenuto, quello fisso che rimarrà di questa norma è l'applicazione del decreto legislativo 502 del 1993 che prevedeva la possibilità delle regioni di introdurre una verifica di compatibilità delle nuove strutture residenziali e semiresidenziali. Cosa in Toscana non era mai stata fatta ma che ora con questa norma introduciamo. Infatti un articolo della norma che abbiamo appena approvato dice che la Giunta dovrà approvare i criteri con i quali darà questo parere. Questo perché vorremmo che ci fosse una distribuzione dei servizi che sia legata ai bisogni dei cittadini e non agli interessi soltanto di alcune imprese. Noi abbiamo bisogno intanto per esempio che ci sia una distribuzione omogenea sul territorio toscano e che i servizi siano differenziati. Non abbiamo bisogno solo di RSA, abbiamo servizi di centri di urni, di servizi per chi ha più abilità e possa continuare comunque a avere una vita autonoma ma con una serie di aiuti e di servizi. Insomma c'è necessario di un quadro generale sul quale l'assessore sta già lavorando. Fermo restando questo che è il contenuto della norma, poi abbiamo introdotto una norma transitoria che dice finché non c'è la programmazione regionale non si può fare un RSA a meno di un chilometro da un'altra. La razza di questa è abbastanza chiara. Noi vogliamo combattere quel sistema di elusione che è in corso in Toscana perché come sapete la norma toscana vieta RSA con più di due moduli di 40 persone e quindi massimo 80 posti. Attualmente in Toscana assistiamo a RSA che vengono fatte in batteria per eludere la norma. È come quando uno trova il cavillo per non pagare le tasse, tutto legittimo però di fatto non paga le tasse. Questo è lo stesso sistema, si elude questa norma e allora la norma transitoria del chilometro serve per combattere questo fenomeno. E adesso sentiamo le dichiarazioni degli altri gruppi politici. Sì, la PDL 174 che riguardava la distanza minima fra le RSA e all'interno del dibattito ci siamo trovati poi dopo in aula con tanti emendamenti che riguardavano ad esempio aree degradate, che riguardavano le strutture all'interno, i servizi che riguardavano, per cui praticamente hanno allargato il percorso e secondo me l'identità di quella che era la PDL iniziale ha tutt'altre funzioni e manzioni. Per cui noi ci siamo astenuti contro, perché il voto di astenzione io non lo concepisco, vi dico proprio la sincera verità, perché siamo stati chiamati qui dai cittadini per decidere. Ma in questa circostanza ci siamo ritrovati di fronte allo stravolgimento di una PDL e abbiamo chiesto se la potevamo riportare in commissione. Così non è avvenuto, ci siamo astenuti, ma questo non vuol dire che non riproporremo in commissione stessa il percorso di quei punti degli emendamenti che sono stati approvati oggi in aula. Un impianto di legge che ci convince, che abbiamo sostenuto e votato, bisognava migliorare l'adeguamento normativo delle strutture sanitarie in Toscana. Questa norma consente agli interventi una maggiore qualità, ma soprattutto una maggiore umanità degli interventi, questa è la finalità, e anche la sostenibilità. Il sistema dell'RSA Toscana ha bisogno di un livello di sostenibilità, di un adeguato finanziamento, ma anche normativa che mettono nelle condizioni chi fa investimenti di poter adeguare le strutture e fare interventi, che ovviamente vedano sempre e comunque la persona al centro di queste iniziative. Noi pensiamo che il mercato dell'RSA, utilizzo questo termine brutto, sia un mercato chiuso. Ci sono 100 posti letto a disposizione e 150 famiglie che hanno bisogno di un posto letto nell'RSA. Questa norma contribuisce a mantenere chiuso quel mercato. Noi pensiamo che non è detto che piccolo sia buono, così come è detto che grande sia cattivo, noi pensiamo che buono sia buono e da questo punto di vista, specialmente in un momento in cui la popolazione anziana cresce, nel momento in cui le famiglie sempre meno sono disponibili a tenere in casa anziani, ci sia bisogno di strutture adeguate, efficienti, moderne, dove ci sono gli strumenti della modernità, che siano palestre dignitose, piscine, ma anche connessioni internet, anche sale per collegarsi dal remoto con i parenti che stanno allontani da casa, quando non possono venire a trovare la persona anziana, che ci siano corsi di computer, che ci siano spazi dove poter guardare documentari, film e tutto il resto, quello che la modernità offre. Le strutture attuali, molto spesso, non sempre per fortuna, sono strutture non adeguate, strutture al limite della faticenza, dove la palestra magari viene fatta sul ballatoio delle scale e questo non è un buon servizio per i nostri anziani, per la nostra religione. Noi pensiamo che un buon servizio lo si ottenga aprendo anche la concorrenza, viva la concorrenza e in questo modo stimolando gli attuali gestori che fanno già un gran lavoro comunque adeguarsi e stare al posto con i tempi. Tecnicamente la proposta, così come formulata, aveva un senso e sicuramente andava a colmare invece un lassismo che c'era stato da parte della regione precedentemente, un lassismo che è stato anche nei controlli, tra l'altro, del proliferare di RSA che in alcuni casi appunto si sono andate moltiplicando sul territorio. Però dobbiamo andare a monte della questione, perché nello stesso momento in cui si vanno a guardare dei tecnicismi sulla costruzione di nuove RSA a fronte di una popolazione toscana che sta invecchiando e che ha bisogno di una presa in carico delle persone che vada a guardare anche alla loro quotidianità e che quindi non si riduca semplicemente a costruire o a prevedere di costruire strutture per ammassare in luoghi grandi o piccoli una popolazione che invece avrebbe bisogno di un accudimento e di una cura maggiore. Dobbiamo sicuramente andare a guardare a monte di questo problema, quelli dell'RSA e del fatto che ad esempio sono aumentate anche le tariffe per il privato che decide di mandare o ha necessità di mandare il proprio familiare in un RSA. E anche sulla qualità ci sono stati purtroppo dei casi poco edificanti su cui la regione prima di andare a fare una modifica su questi dettagli avrebbe dovuto vigilare molto di più e sono successi anche molto recentemente. Voltiamo ancora a pagina. Il Consiglio regionale ha approvato il passaggio a strada regionale della provinciale numero 64 del Cipressino in provincia di Grosseto. Voglio esprimere soddisfazione per questo cambio di destinazione, per questa classificazione si modifica la strada del Cipressino che da strada provinciale diventa strada regionale. Questo significa che non è più a carico degli enti locali ma diventa a carico della regione. La regione ovviamente la prende in carico perché la considera una strada strategica. Ricordiamo che lì nel Sulamiata vi è un bacino geotermico piuttosto importante ma direi che c'è anche agricoltura e al di là di tutte quelle che sono le classificazioni e il piano finanziario importante che ci è stato messo sono 500 mila euro per il 2024 e 300 mila sia nel 2025 che nel 2026. Credo che sia importante anche perché Lamiata sappiamo che è una zona, un'area interna. rientra infatti anche nelle zone delle strategie delle aree interne. Importante per quella popolazione perché diventa un'infrastruttura che collega, sono 30 chilometri ma veramente strategici, che sono attesi dalla popolazione amiatina ormai direi da numerosi anni. Strategica perché li collega alla strada statale, la 223, che è la strada appunto Grosseto-Siena. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie a tutti.